E' bastato un pareggio all'Albino Lefe sabato ad Ascoli per agguantare il treno playoff. Complice infatti la sconfitta della Triestina per mano del Parma, i seriani salgono alla sesta posizione a quota 48 a braccetto proprio con i biancorossi. Un momento splendido quello che i ragazzi di Madonna stanno vivendo, che nelle ultime sette giornate hanno portato a casa cinque vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, realizzando ben 14 reti e subendo nella metà. Non solo, anche gli stessi giocatori a livello personale stanno trovando grandi soddisfazioni che potrebbero galvanizzare tutto l'ambiente, in particolare i giovani. Luoni è stato infatti chiamato a prendere parte al ritiro dell'Under 21 di categoria, mentre Renzetti è il primo giocatore dell'Albino Lefe ad essere convocato per una nazionale maggiore, l'Under 21 di Pierluigi Casiraghi. Disputerà quindi l'amichevole di mercoledì contro l'Austria insieme agli azzurrini. Ma torniamo a parlare dei seriani, domenica scenderanno sul campo del comunale alle 15 contro il Treviso per cercare di continuare il momento positivo, riuscendo magari a strappare i tre punti anche se non sarà facile. I ragazzi di Gotti, richiamato sulla panchina veneta, non vincono infatti lontani dalle mura amiche dallo scorso campionato e si trovano penultimi in classifica, quindi con una gran fame di punti salvezza.